Ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, Signoras e Signores, Messieurs, Dames, sul ring di Little Big Show, la campionessa in carica per un peso di 35 kg, il rullo compressore di un vertide, Mia Fiorucci! Ed ora, lo sfidante, sei volte campione del mondo, 50 incontri vinti, di cui 44 per KO, un peso di 108 kg, direttamente da Brooklyn, Stati Uniti, lui, l'Iron Mike più forte di tutti i tempi, al Little Big Show, Mike Tyson! conosci questo signore? Hai idea di chi sia questo signore? non ha nessuna paura, non ha nessuna paura? Ok Mike, ready? Yeah, signori, box! piano! piano! ammazza se mena! resisti Mike! flowitiarearearearearearearearearearearareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare i dei most talented children in the world. There are new videos every week, plus bonus bits of little big shots not seen anywhere else. Just click on the links right now, and why not subscribe?